L'aggiunta Coppola, su proposta dell'assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutalipassi, ha approvato il progetto esecutivo per il potenziamento della rete Wi-Fi di pubblica fruizione presente sul territorio comunale. Tale operazione consentirà anche di ampliare i punti hotspot gratuiti. Il comune di Agropoli nei mesi scorsi è il risultato vincitore del bando Wi-Fi 4EU, l'iniziativa dell'Unione Europea che finanzia l'installazione di reti Wi-Fi gratuite negli spazi pubblici quali parchi, piazze, uffici pubblici, biblioteche e centri sanitari. L'ente municipale tra i 510 comuni italiani che sono risultati destinatari di un voucher di 15.000 euro per creare gli hotspot necessari all'entrata in funzione delle reti internet o per la loro integrazione. Il buono Wi-Fi 4EU è un pagamento forfettario volto a coprire i costi delle apparecchiature ed installazione degli hotspot Wi-Fi. Al comune toccherà sostenere i costi della connettività, l'abbonamento a internet, della manutenzione e di un funzionamento delle apparecchiature per almeno tre anni. Attualmente gli hotspot gratuiti e attivi sono presenti in Piazza Vittorio Veneto, Stazione Ferroviaria, Porto e Piazza Umberto I, Centro Storico. A questi se ne aggiungeranno di nuovi Parco Pubblico Bonifacio, Via Taverne, Castello Angioino Aragonese, Piazzetta adiacente alla Chiesa Madonna di Costantinopoli, Piazza delle Mercanzie. Il servizio internet, affermano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore Roberto Mutalipassi, è ormai divenuto fondamentale per lo studio, il lavoro e per il tempo libero. Il servizio offerto dal comune di Agropoli, completamente gratuito, è molto apprezzato da residenti e turisti e a partire dal mese di marzo 2021 sarà implementato con nuove zone e potenziato per una connessione maggiormente veloce. Un servizio importante per una città sempre più al passo coi tempi.